Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia della Svizzera usata in Qatar negli ultimi mondiali. In edizione FUN, la maglia un po' più comoda dedicata ai tifosi. La prima maglia della Svizzera per la Coppa del Mondo 2022 è rossa con rifiniture bianche. Nella parte alta sono presenti righe bianche orizzontali di diverso spessore. Il collo è a V e presenta una rifinitura bianca. Gli stemmi sul petto sono tutti di colore bianco. Realizzata con l'innovativa tecnologia Drycell, questa maglia di puma assicura proprietà antisudore che ti aiutano a mantenere una sensazione di asciutto e di comfort durante la partita. Questa maglia è fatta molto bene. Tutte le rifiniture sono giuste. Nella mia classifica però prende solo tre stelle. Tutto sommato è una maglia a tinta unita rossa con queste righe bianche belle ma non mi fa impazzire. Il costo però lo vedete qui sopra che è veramente bassissimo e molto conveniente. Per una maglia che arriva con dei tempi di spedizione molto veloci, questa è arrivata in 21 giorni, e con una qualità eccezionale. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate sul sito a vedere gli sconti legati alle quantità che il sito propone. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete le misure e la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per essere aggiornati e seguire prossime recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.